Quello che è venuto a dire qua, e mi dispiace se il gruppo ministero non era a conoscenza, ma io credo che era a conoscenza, il risultato di questa dichiarazione che è venuta a fare qua, le affatti a Palermo, alla procura di Palermo, ma tre anni fa, e la procura di Palermo ha indagato per due anni, addirittura mia moglie, ha indagato mia moglie, anzi io devo ringraziare questa procura di Palermo che non ha arrestato, perché di solito prima arrestano e poi fanno indagine. Si vede che non hanno creduto ad otto principio quello che ha detto questo Vanzalaco e per due anni è stata indagata mia moglie e hanno archiviato il caso, questa stessa dichiarazione che ha fatto allora, le è venute a fare qui in questo processo, che cosa voglio aggiungere, che cosa debba aggiungere di Vanzalaco? Non debba aggiungere niente. Quanto riguarda Cangeme, signor Presidente, di Cangeme devo perdere un po' di tempo, Cangeme bugiardo su tutti i punti di vista, quando l'hanno arrestato, quando l'hanno arrestato quando lui si è presentato per dire che voleva collaborare con la giustizia, la motivazione